Armato di pistola minacciava alcune persone in Viale Buozia e in Poli è stato arrestato ieri dagli agenti di polizia del commissariato un 49enne georgiano. Ha preso il via ieri sera con tantissima partecipazione Pinocchio in strada a Samenato Basso. Per altri due giovedì sera tanti eventi e tante persone sono attesi nella frazione sulla Tosco Romagnola. Ha aperto le porte a Empoli in Viale Petrarca il Covo di E, uno spazio di co-working aperto alla condivisione di progetti e alle start-up. È partito oggi e proseguirà per tutto il fine settimana il torneo internazionale di scacchi al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, attesi oltre 170 giocatori da tutto il mondo. Venerdì 14 giugno, buonasera dalla redazione di Clivo News. In apertura la cronaca, armato di pistola minacciava alcune persone in Viale Buozia e in Poli è stato arrestato ieri dagli agenti di polizia del commissariato un 49enne georgiano. Vediamo. Arrestato dagli agenti del commissariato di Empoli, un georgiano armato di pistola in Viale Buozia. Con l'arma l'uomo stava minacciando alcune persone che all'arrivo degli agenti lo avevano già bloccato e immobilizzato. I fatti risalgono a ieri quando gli agenti sono stati contattati da un passante che aveva assistito alla scena. L'arma, una Beretta 9 del 1934 in uso al Regio Esercito e a Polizia e Carabinieri dopo l'affermazione della Repubblica sulla Monarchia, potrebbe essere una vecchia eredità trafugata dall'uomo durante un furto. Con questa pistola l'uomo ha minacciato tre stranieri che erano lì seduti con ogni probabilità per questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato arrestato, conosciuto, era stato già denunciato da personale delle volanti per furto aggravato commesso lo scorso mese di novembre. Un giorgiano del 70, clandestino, il quale è stato arrestato sia per la minaccia aggravata che per detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo. Il processo si è concluso nel primo pomeriggio di oggi, l'arresto è stato convalidato ed il soggetto in attesa che si svolga il dibattimento è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte alla settimana. Negli ultimi giorni inoltre sono stati intensificati i controlli da parte delle forze di Polizia sul territorio con nuove tecnologie e alcune pattuglie da Firenze per un'operazione sempre più ampia di contrasto al crimine. In questi due giorni sono stati controllati 144 veicoli con il sistema Mercurio di cui 30 fermati e controllati singolarmente dalle pattuglie, quindi veicolo più occupanti e 45 persone, 14 delle quali sono risultate con precedenti di Polizia. Luca Lotti si è autosospeso dal PD, non partecipo al Festival dell'ipocrisia, scritto in un messaggio rivolto al segretario Nicola Zingaretti. Sono nato e cresciuto come uomo di squadra e non so immaginarmi in altro ruolo, per questo l'interesse della mia comunità. Il PD viene prima della mia legittima amarezza. Stati comunico dunque la mia autosospensione, fino a quando questa vicenda non sarà chiarita. Lotti, deputato del PD, cresciuto nel comune di Montelupo Fiorentino, risulta implicato nella vicenda delle nomine pilotate al CSM. Cambiamo argomento. Ha preso il via ieri sera con tantissima partecipazione Pinocchio in strada, assaminato basso per altri due giovedì. Tanti eventi e tante persone sono attese nella frazione sulla Tosco Romagnola. Vediamo. La Tosco Romagnola vive grazie a Pinocchio in strada. È iniziata ieri con il taglio del nastro, la festa del commercio serale della frazione di Samminato Basso, che proseguirà per altri due giovedì con tante iniziative. È una manifestazione molto amata qui dagli abitanti di Samminato Basso e non solo, anche da persone che vengono da altri centri, altre frazioni. E è in crescita, ha dei numeri molto in crescita. Poi obiettivamente si sta anche bene fuori. C'è una bella vitalità a Samminato Basso, questa è anche consolidata. Il lavoro del centro commerciale naturale è stato veramente in crescita durante tutti gli anni. E questa manifestazione lo testimonia. Evento più particolare della serata, la Pinocchiesca, cioè l'anteprima del campionato nazionale della bugia. Non sono ammesse le barzellette, perché la bugia è una interpretazione della realtà. È come un'opera d'arte, è una forma artistica, perché quando fai arte interpreti la realtà. Io quasi direi che l'arte, forse alcune volte è una bugia, interpreta la realtà. E anche gli adulti e i bambini si impegnano a raccontare. E la devono sapere raccontare bene, perché ci devono far credere che è vera. E questo è un gioco di fantasia. Tanti eventi sono previsti anche per i prossimi due giovedì. Proseguiremo il 20 con cena lungo la Toscra Magnola. Per la prima volta porteremo le persone a sedersi sulla Toscra Magnola. Sicuramente sarà un'ottima serata di incontro e di scambio sostanzialmente. E finiremo, concluderemo il 27 con il Circo Nero, che sicuramente sarà un'animazione che richiamerà molto pubblico. Se vi state chiedendo il motivo della connessione tra Pinocchio e San Minato Basso, sentiamo la spiegazione del Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Gianni. Un borgo che aveva quel nome, Pinocchio, che probabilmente ispirò Carlo Lorenzini. Perché Carlo Lorenzini qui era di casa nel periodo più delicato e più importante, quello dell'adolescenza. Veniva a trovare il padre che arrotondava lo stipendio facendo il cuoco per i marchesi ginori a Firenze, ma il fine settimana veniva a servizio di fattorie della zona. E Carlo Lorenzini, che con il fratello Paolo studiò nel collegio di Colle Valdelsa, magari veniva a trovare il padre. Come per il suo pseudonimo, perché a un certo punto per scrivere non poteva più firmarsi Carlo Lorenzini, si firmò Collodi perché era incompatibile con il suo ruolo di impiegato civile dello Stato. Ecco, come per lo pseudonimo usò il riferimento a Collodi che gli richiamava Angiolina Orzali, la madre che lì era nata, probabilmente per il nome al celebre Burattino usò il nome che gli richiamava il babbo. Appunto, lo veniva a trovare al Pinocchio e Pinocchio fu il Burattino. Naturalmente tutto questo è un'interpretazione, non pretendo sia la verità, ma tanti elementi, come dice il Codice Civile quando si parla delle prove, devono essere indizi gravi, precisi e concordanti. Ecco, tutto fa capire che qui è grave, preciso e concordante nel ritenere il nesso di casualità per cui si chiami il Burattino così come era questo borgo. Per i Saminiatesi però fu un elemento di disturbo perché nel 1924, ormai Carlo Lorenzini se ne era andato da 34 anni, lui morì nel 1890, ormai la fama del celebre Burattino richiamava nei paesi intorno lo scherzo, la battuta, il naso lungo, la bugia e quindi fecero una bella petizione al comune di Saminiato perché potesse cambiare nome. Tre pomeriggi dedicati ai più piccoli, lunedì 17, mercoledì 19 e venerdì 21 giugno, Piazza Montanelli a Fucecchio si animerà grazie all'iniziativa Giochi da Piazza promossa dalla cooperativa La Giostra e dal comune di Fucecchio dalle 17.30 alle 19.30. Alcuni animatori della cooperativa saranno presenti in piazza con l'idea di creare momenti di gioco e intrattenimento per i più piccoli. Aperto le porte a Empoli in Viale Petrarca, il Covo di E, uno spazio di co-working aperto alla condivisione di progetti e alle start-up. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Il Covo di E apre le porte ai creativi e a tutti coloro che cercano uno spazio di lavoro condiviso e polifunzionale. Il co-working è la nuova frontiera di ufficio, un grande spazio allestito ed equipaggiato di tutto il necessario per ideare e portare avanti i progetti senza dover prendere fissa dimora. Adatta alle nuove aziende e ai lavoratori freelance che amano uno spazio innovativo e ricco di sinergie interessanti. Covo nasce a Empoli dall'idea di Eleonora Chiaruggi che ha potuto frequentare e sperimentare ambienti di questo tipo durante la sua esperienza lavorativa a Milano. Il Covo di E è uno spazio dove dare vita alle proprie idee. Non a caso il logo è contraddistinto da un piccolo vetto che ha una crepa a forma di W che richiama appunto il nome, il Covo di E, dove i creativi, le persone che avranno necessità di sfruttare lo spazio a 360 gradi potranno realizzare i loro progetti. Postazioni di lavoro attrezzate e spazi comuni per scambiarsi idee e dar vita a nuovi progetti che saranno poi supportati dai gestori attraverso la comunicazione. Il Covo di E si pone anche come ambiente innovativo e polifunzionale dove poter organizzare eventi ed iniziative di ogni tipo, porte aperte quindi alla creatività e alla voglia di socializzare. Potranno avere a disposizione una sala corsi, uno studio fotografico attrezzato in maniera professionale, i programmi di post-produzione sui computer forniti dallo spazio e anche delle stampanti multifunzione per appunto creare bozze di progetti e non solo creare, scattare ad esempio nel caso di un fotografo e fuoriuscire dallo spazio ma progettare in loco. Sabato 15 giugno, immancabile, torna l'appuntamento con il Mercatale in Empoli. Si svolgerà nel parcheggio di Via Bisarnella, alle porte del Parco Mariambini e a due passi dalla Statale Toscolo Magnola dalle 9 alle 13. Come sempre saranno tante le tipicità a disposizione portate sul posto direttamente dai produttori. Il prossimo appuntamento è già fissato per sabato 22 giugno, stavolta in Piazza della Vittoria. Ha preso il via oggi e proseguirà per tutto il fine settimana il torneo internazionale di scacchi al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, attesi oltre 170 giocatori da tutto il mondo. Vediamo. È iniziato oggi pomeriggio e vedrà tantissimi scacchisti da tutto il mondo passare per il Palazzo delle Esposizioni di Empoli in questo fine settimana la seconda edizione del torneo internazionale di scacchi Città di Empoli. Il torneo patrocinato dal Comune di Empoli si propone come manifestazione scacchistica a livello internazionale dove saranno protagonisti grandi maestri, maestri internazionali e grandi maestri femminili provenienti da tutto il territorio nazionale e da numerosi altri paesi, nutrita anche la rappresentanza degli Under 18. Questa è la seconda edizione del torneo internazionale che la S di Empoli Scacchi organizza ad Empoli. Dovrebbero esserci all'incirca 160-170 giocatori provenienti da tutta Italia ma anche da una decina di paesi europei e anche estro-europei. Il torneo si svolgerà in cinque turni con un tempo di riflessione a partita di 90 minuti più 30 secondi di abbuono a mossa. Domani e domenica due turni, uno la mattina e uno il pomeriggio, quindi complessivamente cinque turni. Parallelamente ci sarà un torneo riservato agli Under 16 che invece si svolgerà su quattro turni giorni di sabato e domenica. La S di Empoli Scacchi è un'associazione nata qualche anno fa ma che conta già tanti iscritti e riesce ad attirare in città alcuni tra i più forti giocatori di tutto il globo. La nostra associazione nasce nel 2005 anche se nasce da un gruppo di appassionati che già in precedenza, già tre anni prima, si ritrovavano in maniera informale. Dal 2005 si è costituita come associazione sportiva di lettantisti che conta all'incirca una cinquantina di soci di tutta l'età. Siamo al meteo, vediamo che tempo farà nel fine settimana nell'Empolese Valdelsa con il meteorologo Gordon Baldacci. Sarà l'alta pressione a tenerci compagnia nel fine settimana, anche se già a partire dalla giornata di domani avrà la meglio la componente più asciutta e mite di matrice azzorriana, su quella più umida e molto calda, responsabile delle temperature davvero eccezionali, registrate oggi nell'Empolese Valdelsa. Diamo uno sguardo ai valori registrati alle ore 15. Empoli 33,8 gradi, Capraie limite 37,7, Cerreto Guidi 35,3, Fucecchio e Montespertoli 35,3. La mappa sinottica in quota prevista per i prossimi giorni ci mostra questa staffetta fra i due campi anticiclonici favoriti dall'avanzamento verso est di una depressione e scorrimento sulla Francia, responsabile della temporanea enfatizzazione del clima torrido di queste ore. Ed eccoci alla tendenza meteo per il fine settimana nell'Empolese Valdelsa, iniziamo dalla giornata di domani, sabato 15 giugno. Ci sveglieremo con un cielo sereno al mattino e velato nel pomeriggio, a cui si accompagnerà una debole ventilazione d'apponente, favorendo un netto calo delle temperature massime che si attesteranno fra i 30 e i 31 gradi. Domenica 16 giugno, nottetempo e nelle prime ore del mattino, nubi basse sul Valdarno inferiore e sull'Empolese, destinate a dissolversi in mattinata quando il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Venti deboli sempre da ovest, temperature minime in calo, comprese fra i 15 e i 16 gradi, massime stazionari attorno ai 30 e 31 gradi. La tendenza per lunedì 17 giugno ci porta ancora nottetempo e al primo mattino, nubi basse sul Valdarno inferiore, cielo poco nuvoloso durante la mattinata e qualche nube in più nell'Empolese e sulla Valdelsa nel pomeriggio, ma senza precipitazioni. I venti deboli si disporranno da nord-ovest e le temperature subiranno un lieve aumento nelle zone interne, riportandosi attorno ai 32 e 33 gradi. Non ci sono altre notizie, grazie per averci seguito. Clivo News torna lunedì alle 19.40, buon fine settimana a tutti.